Ciao amici, sono il vostro RokuN e in questo mio nuovo video vi mostrerò gli acquisti che ho fatto alla fiera del fumetto di quest'anno, quindi al Palermo Comicon 2017. Naturalmente per questi acquisti non sono da solo, naturalmente non mi sto riferendo a quel Puccio là, ma mi sto riferendo alla signorina che ho accanto a me. Ciao! E allora insieme abbiamo fatto degli acquisti e naturalmente adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo a mostrarvi uno ad uno i nostri acquisti. E allora, iniziamo subito dalla signorina. Intanto Puccio vi saluta comunque. Puccio sento saluta. Vedete com'è contento. E' sempre contento. Allora, le prime cose vi faccio vedere sono... Allora, questo qui... Che è una piccola figura di Martimister. Allora, a me piace molto Martimister. Io leggo appunto il fumetto, anzi è l'unico fumetto praticamente che io leggo. E quindi diciamo alla fiera rappresenta uno stand con tanti personaggi di fumetti, forse erano uscite da Edicola. E quindi c'era Martimister e c'era anche il suo amico Java, che però comunque non ho preso, mi interessava più lui. E quindi questo qui è il primo acquisto. Sì, 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 sono... Il primo acquisto. E' interamente in dei cast. Gli altri acquisti sono... Un portachiavi, questo qui, il legno, con C.T.P.O. E' tutto fatto in legno. Nella bancarella dove l'ho preso erano presenti anche altri personaggi. C'era anche Darth Fener e poi altri film, insomma. E questo qua mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi il resto delle cose che ho preso invece sono tutte collanine. Quindi magari se c'è qualche ragazza che guarda potrebbe essere interessata. E le collanine le ho comprate tutte in un singolo negozio, che si chiama Bazinga Nerd Shop. Che si trova anche su Facebook, se vi può interessare. Allora, le prime collanine sono due collanine di queste così, praticamente con i cristalli. Che però vanno molto di moda, ho visto queste collane così. Quindi una gialla e una blu trasparente. Tipo quelli delle streghe quando cercavano nella cartina geografica. A cristalle liquidi, insomma. Sì, vabbè. E poi un'altra pure, un altro cristallo. Un altro cristallo che è questo qui, che è tipo di un colore un po' cangiante. C'è va tipo dal blu, poi di dietro tipo bronzo. Carino. E poi, gli ultimi invece sono due collane con la galassia. Che a me piacciono tantissimo queste collane con le galassie. Men in black. E sono una così, che c'è appunto questa galassia dentro. Da un lato è tonda e da un lato è piatta. E poi l'ultima è molto simile. Sembra. Però è tutta tonda, tipo una biglia. E dentro c'è appunto una galassia. È sempre il medaglione che si vede in black un poco. Non lo so qual è. Comunque, questi sono tutti i miei acquisti. Eh, però non hai detto che il Martin Misterky te l'ha regalato. Vabbè, e Rock Wayne me l'ha regalato. Un Rock Wayne te l'ha regalato. E allora, iniziamo adesso con i miei acquisti che ho fatto. Allora, fortunatamente come avete visto nel mio video dedicato alla fiera. Nel mio penultimo video appunto che io ho dedicato alla fiera. Vi ho mostrato alcuni negozi, alcuni stand che erano presenti lì. E per fortuna mia, o per disgrazia mia, c'erano due grandi stand vintage. Uno era Retropazia, dal quale ho acquistato questo bellissimo Dr. Strange. Davvero bellissimo. Direttamente appunto dalla mitica serie animata anni 90 di Spider-Man. Davvero, davvero carino. Vedete questo, eh... Dr. Strange è per la serie appunto Spider Wars. Quindi Dr. Strange. Mystical Morphing Cape. Quindi ha in pratica al suo interno, ha in pratica un mantello dove al termine del mantello appunto è inserito all'interno un filo metallico, un filo di ferro. Quindi è un mantello un po' modellabile diciamo. Quindi è un mantello un po' bendable. Qui appunto c'è un pin, una spilletta, toy bits, quel retro. Comunque, fatemi sapere se volete la recensione poi di questo Dr. Strange, vintage, tutto vintage. E qua iniziamo con altre chicche. Allora, c'era un altro negozio, un altro bellissimo stand vintage, c'era un altro bellissimo stand vintage, che si chiamava Caccia di Tesori Vintage, che per mia disgrazia è un negozio di Palermo. E io non sapevo che qui a Palermo, qui nella mia città, esistesse anche questo negozio, perché Retropazzia, per chi lo conosce, è su Ebay, ma è un negozio di Catania, quindi non è qui da me. Comunque, c'era questo a Caccia di Tesori, questo stand appunto sulla fiera, che vende tutto materiale vintage. E ho trovato questa graziosissima Penny, Penny appunto è la nipotina dell'ispettore Gadget. Purtroppo è usata, però come vedete è in condizioni abbastanza apprezzabile. Qui è un poco graffiato, però sinceramente è in ottime. Condizioni, più che discrete condizioni direi, il viso è abbastanza nuovo, sembra. Comunque, visto che è una figure molto rara e molto costosa quando si trova su Ebay, comunque. Qui ha in dotazione un piccolo pattino, però poi ho scoperto che non è un pattino suo, cioè appartiene sempre a lei, però è un pattino che è un pezzo di un accessorio di penne. Quindi neanche un piccolo pattino, non è. Comunque, andando avanti, poi sempre da Caccia di Tesori Vintage, ho comprato un po' di Dominatori dell'Universo. Adesso quindi un po' di Masters of the Universe Vintage, un po' di Dominatori dell'Universo Vintage. Adesso ho preso questo bellissimo Ordak, che è in condizioni abbastanza apprezzabili, devo dire. Purtroppo si presenta senza accessori, però è in condizioni abbastanza buone. Poi ho preso sempre quest'altro personaggio dei Dominatori, che purtroppo non conosco il nome di questo personaggio, quindi mi devo un po' documentare, perché non conosco tutti i nomi dei Dominatori dell'Universo, perché sinceramente da bambino non mi importava molto sapere i nomi, mi piaceva solo Iman, quindi. Poi tutti gli altri personaggi mi sono piaciuti un po' più con gli anni, e quindi questo lo trovo davvero bellissimo, quest'altro personaggio, che è appunto una roccia, vedete che è un Dominatore dell'Universo, che come vedete si trasforma in una roccia, in un Meteorite, vedete com'è carino, si può chiudere meglio, io per ora l'ho chiuso un po' così, e quindi diventa un Dominatore dell'Universo. Completo di tutti gli accessori, in più che discrete condizioni, direi. Poi ho preso, questo lo conosco il nome, ManyFace. Ecco qua, ho preso ManyFace, la sua versione vintage, sempre mantenuto in condizioni più che eccellenti, direi. Completo del suo accessorio, del suo unico accessorio. Carino. Infine, l'ultimo Dominatore dell'Universo che ho preso, è questa specie di uomo coccodrillo. Io lo chiamo così momentaneamente, mi devo documentare sul suo nome. Sinceramente, non è un personaggio chissà che, è uno scagnozzo appunto di Skeletor, però io l'ho voluto prendere perché appunto mi ricordo che da bambino lo avevo. Mi è stato regalato dalla nostra vicina di casa, e sinceramente avevo nostalgia di riaverlo. Io mi ricordo appunto che da bambino l'ho proprio distrutto, io ho staccato questa parte in gomma morbida. L'avevo, l'avevo nettamente rovinato, e l'ho trovato più o meno in condizioni abbastanza apprezzabili, completo del suo unico accessorio. E quindi amici, questi erano i nostri acquisti, gli acquisti che abbiamo effettuato appunto alla fiera. Questi sono i miei acquisti, e là in questo accetto appunto ho messo tutti gli acquisti della mia fiammetta. Quindi amici, fatemi sapere se di quello che ho comprato volete la recensione singolarmente, fatemelo sapere se vi sono piaciuti o no. Quindi con un messaggio scritto, con un mi piace, al prossimo video. E come ormai, vi dico sempre, vai Puccio! Ma che cos'è? Ma che cos'è veramente, ma che cos'è?